La città è ormai da tempo alle prese con la presenza di numerosi branchi di cani d'andaggi, ma l'episodio successo ieri pomeriggio a ridosso della chiesa di Sabucci, nel quartiere del villaggio agricolo, ha avuto invece come protagonista un cane domestico di piccola taglia. L'animale è sfuggito al controllo della padrona e, verosimilmente spaventato dalla presenza di parecchi fedeli e dalla confusione, ha aggredito diverse persone con morsi e graffi. Almeno tra gli sfortunati licatesi, che hanno dovuto fare i conti con l'aggressività dell'animale a quattro zampe, che dopo essersi scagliato tra la folla, ha piantato i propri canini nella pelle di due persone, graffiando un terzo che ha cercato di intervenire per neutralizzarlo. Il cane si è calmato solo dopo diversi tentativi di renderlo innocuo e, alla fine, la padrona è riuscita a recuperarlo e a calmarlo definitivamente. Sul posto, allertata da una chiamata, si è portata una volante del comando di Polizia Municipale di Piazza del Libia, i cui agenti hanno eseguito i rilievi di rito sentendo le persone presenti. A dover ricorrere alle cure del pronto soccorso, sono state una bambina di 10 anni e la mamma, prime vittime della furia del piccolo cane domestico. Ad entrambe sono stati riscontrati morsi e graffi. In tutti e due i casi è stato messo in atto dal personale medico in servizio dell'unità operativa dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo il protocollo sanitario del caso. Dopo essere state medicate, le due donne sono state dimesse ma invitate a recarsi all'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale situato sulla salita Santa Maria per accertare che il morso del cane non abbia trasmesso nessuna patologia.